Silvia Malacarne, copywriter e content creator Ispirazione sicuramente è qualcosa che ti sorprende nel senso che è qualcosa che trovi all'improvviso magari mentre stai facendo la cosa meno inaspettata quindi secondo me è importante guardarsi sempre intorno e assorbire tutti gli stimoli esterni perché non sai mai quando puoi trovare quell'idea Consapevolezza? Sicuramente bisogna secondo me mettersi un po' alla prova un po' testare quelle che sono le proprie capacità, i propri limiti quindi anche spingersi oltre ogni tanto e capire su cosa uno è afferrato o meno e essere consapevoli poi per trasmetterlo anche agli altri Alleanza? Il nostro lavoro è sicuramente fondamentale nel senso che lavorare in team ti dà sempre qualcosa in più che spesso da solo non sei in grado di portare all'interno di un progetto proprio perché si uniscono gli stimoli, si uniscono le idee e lascia qualcosa di sicuramente con un valore superiore